Buongiorno a tutti, siamo al quarto e penultimo modulo del laboratorio dal basso a trazione di terra presso il castello Caracciolo di San Michele di Bari. La lezione di oggi che durerà tutta la giornata riguarda il fundraising e abbiamo con noi il dottor Caracciolo della scuola di fundraising di Roma e consisterà in una prima parte di teoria in cui verranno approfonditi, verrà approfondito il significato di questo concetto e subito dopo passeremo ad una parte pratica laboratoriale in cui ci metteremo in gioco nella realizzazione di una proposta appunto di raccolta fondi. Ora passo la parola al dottor Caracciolo che si presenterà e darà avvio alla lezione. Allora, buongiorno a tutti, come detto sono Andrea Caracciolo, sono consulente e un formatore della scuola di Roma Fundraising Hit, mi occupo appunto di consulenza e formazione, quindi aiutiamo le organizzazioni a dotarsi di strategie di raccolta fondi piuttosto che implementarne i piani e dunque le attività di raccolta fondi vere e proprie e poi appunto faccio momenti formativi come questi qua anche. Sono un membro del consiglio direttivo di ASIF, che è l'associazione italiana Fundraiser, che è l'associazione che raccoglie i Fundraiser in Italia e da alcuni anni sono anche membro del consiglio direttivo di EFA, che è la European Fundraising Association, che è l'associazione europea che raccoglie le associazioni nazionali di Fundraiser, dunque al suo interno sono rappresentati circa 19 paesi dell'Unione Europea con circa 22 associazioni presenti rappresentando all'incirca 10 mila Fundraiser. Allora, come detto, oggi vediamo un po' di inquadrare quello che è la materia del Fundraising, quindi veramente ho fatto una brevissima introduzione su che cosa è il Fundraising e che cosa si intende con il Fundraising e quali sono dunque gli elementi fondamentali per avere successo come raccolta fondi, come Fundraising e poi cercheremo di concentrarci invece maggiormente su quella che è la raccolta fondi da aziende, dunque il Corporate Fundraising e vediamo se appunto se riusciamo alla fine della nostra giornata nel nostro intento di elaborare una proposta per le aziende, quindi poi vi chiederò di dividervi in gruppi e essenzialmente farò lavorare voi e io non lavorerò, quindi sarà molto comodo. Allora, partiamo direttamente con quello che è appunto che cos'è il Fundraising e che cosa intendiamo col Fundraising? Esistono molte definizioni di raccolta fondi, innanzitutto già dobbiamo intenderci su una cosa, la terminologia perché lo chiamiamo Fundraising e non raccolta fondi? Perché già la terminologia significa una cosa diversa, la raccolta sembra quasi che tu li vai a trovare da qualche parte, questi soldi che nascono lì per caso li vai a trovare, invece il termine Fundraising contiene il verbo to raise, cioè far crescere e appunto per raccogliere i fondi, prima ancora di poterli effettivamente raccogliere, bisogna mettere in genere in atto delle azioni per favorire queste opportunità, questa possibilità. E quindi di tutte queste definizioni, se voi mettete su Google ne trovate davvero innumerevoli, quindi forse una delle più famose è quella che è stata coniata da quello che è considerato il padre del Fundraising internazionale che si chiama Hank Rosso, un americano, un americano direi di chiare origini italiane, che definisce il Fundraising come la nobile arte di insegnare a donare, quindi è una definizione molto retorica anche, però poi dopo secondo me nonostante tutto, nonostante la sua forma retorica, poi dopo contiene dentro di sé tutta una serie di concetti importanti che poi dopo ritroveremo anche successivamente. Io qui ho portato la definizione di quello che è il Fundraising coniata dalla nostra scuola e vedrete che è una definizione un po' più lunga e onnicomprensiva, ma secondo me già contiene in sé tutta una serie di concetti importanti che spiegano quella che è la materia. Allora, che cos'è il Fundraising? Il Fundraising essenzialmente è un'attività strategica di reperimento di risorse finanziarie volte a garantire la sostenibilità nel tempo di una causa sociale delle organizzazioni che la persegue e a promuovere il suo sviluppo costante affermando la propria identità sociale verso una molteplicità di interlocutori. Allora, innanzitutto questo che cosa significa? Andiamo a scorporare questa definizione. Il Fundraising è un'attività strategica, quindi non è meramente tecnica, non esiste un modo giusto per chiedere raccolta fondi che garantisca il successo di un'attività di raccolta fondi. Cioè, tanto per intenderci, non esiste il modo giusto per scrivere la proposta di sponsorizzazione che ti garantisce successo, non esiste la lettera di raccolta fondi che sia più efficace di una di un'altra, perché dipende da tantissimi fattori che poi dopo vedremo successivamente. E dunque non è solo tecnica, ma è un'attività strategica e dunque come qualsiasi attività strategica deve stare nella testa dell'organizzazione o dell'organizzazione che promuove un'attività di raccolta fondi, quindi a livello di management. Perché? Perché proprio per fare Fundraising ci vogliono una serie di settori che lavorino a favore del Fundraising e dopo vedremo quali sono. E dunque è un'attività strategica di reperimento di risorse finanziarie, quindi ti deve portare in casa soldi essenzialmente, denaro. O altre cose che abbiano un valore economico, per esempio beni e servizi, anche quelli sono comunque un'attività di reperimento di risorse finanziarie in un certo senso. Volta a garantire che cosa? La sostenibilità nel tempo, quindi quello che si vuole sostenere con la raccolta fondi in genere, sono una serie di attività che dureranno nel tempo e dunque non per eventi spot, non per una cosa episodica. Per carità si possono trovare soldi anche per fare un evento spot, un evento episodico. Però se parliamo tecnicamente di Fundraising vogliamo che questa sostenibilità sia garantita nel tempo. E di che cosa? Di una causa sociale, dunque una mission con determinati obiettivi e determinati... proprio una missione sociale essenzialmente. E quindi una causa sociale e l'organizzazione che la persegue. E dunque un'associazione, una fondazione, un'associazione di promozione sociale, una cooperativa, comunque un soggetto organizzato in maniera collettiva in un certo senso, che porti avanti questa causa sociale. E quindi in genere non è che si dona per una persona, si può donare per il problema di una persona, ma in genere si dona a un'organizzazione che si occupa di quella persona o di quella causa sociale. E appunto che persegue questa causa sociale e ne promuove il suo sviluppo costante. Quindi che cosa significa anche questo? Che si fa Fundraising lì dove ogni volta si propone un quid in più, un qualche cosa in più, cioè si cerca sempre di migliorare il proprio servizio. E anche questo è molto importante perché non è che si fa raccolta fondi per mantenere un servizio, ma lo si fa per incrementare. Quindi un'altra cosa fondamentale che si può dire in questo momento è che sicuramente non esiste messaggio peggiore di raccolta fondi di se non raccogliamo questi soldi domani chiudiamo. Perché la risposta naturale che vi potrebbe venire data è allora chiudi. Invece noi vogliamo che le nostre attività, che la nostra organizzazione che porta avanti quella causa sociale prosegui. E quindi promuovere lo sviluppo costante di questa causa sociale come? Affermando la propria identità sociale, dunque presentandomi, affermando chi sono e come intendo il mondo, come intendo risolvere questo problema sociale. Quindi in questo caso affermando la mia identità sociale, verso chi? Verso una molteplicità di interlocutori. Quindi il fundraising non è solo raccolta fondi da una fondazione, non è solo raccolta fondi dalle aziende. In genere in questo caso, appunto in questo concetto qui c'entra il cosiddetto funding mix e dunque che devo dipendere da una serie di diverse fonti di finanziamento. Perché? Anche questo è molto semplice e intuitivo da comprendere in realtà. Perché? Perché io posso anche stare benissimo come organizzazione, dipendere magari solo da un'unica fondazione, magari dalla fondazione di origine bancaria che c'è sul territorio che mi garantisce la sostenibilità. Io sto benissimo, non ho problemi. Il vero problema è che se dipendo solo da un'unica fonte di finanziamento, se viene meno quella fonte di finanziamento, io domani rischio di chiudere. Quindi l'immagine che possiamo dare è quella del mondo animale, quella per esempio del formichiere. Il formichiere magari finché c'è il formicaio vive bello pasciuto e sta tranquillo e sereno, non c'è nessun tipo di problema. Se viene meno il formicaio, il formichiere ce lo siamo giocati. Invece il cane che si mangia un po' di tutto, che mangia un po' di qua, le spizziche e bocconi, comunque se viene meno una fonte di cibo per lui, ha altri canali da cui ricevere fondi. Guardate che questo è successo negli anni a tantissime organizzazioni, pensate al mondo del della cooperazione internazionale all'ONG. Le ONG stesse per tantissimi anni vivevano semplicemente di fondi della cooperazione internazionale, di fondi del MAE, fondi appunto legati a progetti, a progettazione e stavano benissimo obiettivamente, non avevano nessun tipo di problema. Dopodiché con la crisi economica hanno cominciato a tagliare programmi, hanno cominciato a tagliare finanziamenti e da lì in poi piano piano sono sempre venute meno le risorse finanziarie e moltissimi organismi e moltissime organizzazioni hanno dovuto chiudere. Stesso problema oggigiorno per esempio rischiano di vivere da qui in futuro, sono le cooperative sociali, anche le cooperative sociali che campano magari di convenzioni, convenzioni col pubblico, vivono benissimo, però un domani come sta già accadendo che tagliano questi fondi, rischiano di dover chiudere. Invece se per noi, se per queste organizzazioni la causa sociale è importante, allora questo non deve accadere, non può succedere, perché se noi crediamo in quella causa sociale dobbiamo far sì che questa venga portata avanti. E quindi, che cosa non è il fundraising? Il fundraising non è una pratica tappa a buchi, cioè non è che lo posso attivare il fundraising solo in un momento in cui c'è un buco in cassa. No, non esiste, questo non può funzionare, in genere è la strada migliore per il fallimento. Perché? Perché soprattutto per fare raccolta fondi, in molti casi, prima ancora di raccogliere, magari dovrò fare degli investimenti. Ipotizziamo anche uno dei canali maggiormente utilizzati per fare raccolta fondi, che sono strumenti che tutti noi riceviamo quotidianamente, sono le lettere di raccolta fondi delle varie organizzazioni. Anche quella magari può produrre dei risultati, ma ha un costo prima ancora di produrre dei risultati, se non altro quello dei francobolli e della stampa. E quindi se io ho un buco in cassa e non ho i soldi per fare un investimento, è difficile che io possa mettere in atto delle azioni. E questo è veramente solo l'esempio più semplice, ma in tanti casi è richiesto investimenti da un punto di vista organizzativo, investimenti da un punto di vista di comunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi prima cosa che non è, non è una pratica tappabuchi. Anche perché tenete conto, in questo concetto rientra anche un altro principio, ovvero voi andreste a mettere i soldi in un… se voi doveste fare… allora, ipotizziamo che una donazione invece che essere semplice carità sia un investimento sociale, cioè voi andate a mettere i soldi lì dove credete che ci sia un ritorno sociale. E dunque veramente come un investimento va trattato, soprattutto in tempi di crisi, questo è ancora più vero, no? Siamo più attenti a dove andiamo a mettere i soldi. Mentre quando uno ha ricchezza in abbondanza, ti arrivano magari tante buone cause che ti chiedono e dici vabbè, do un po' qua, do un po' là a pioggia, come si dice, no? Invece in tempi di crisi è normale che uno stia più attento a dove mette i soldi, cioè lo valuta meglio, dice ma ha senso che io metta i soldi in questa organizzazione, non ha senso? Beh, allora, se è un investimento, voi andreste a mettere i soldi in un'impresa, in un'azienda che domani rischia di chiudere? Probabilmente no. Invece le andreste a mettere in un'organizzazione che sapete che ha successo e che magari può fare ancora meglio. Il concetto è esattamente lo stesso, identico, semplicemente che nell'impresa c'è un investimento che tu metti per avere un ritorno economico. Nelle organizzazioni non profit è un investimento che tu metti per avere un ritorno di tipo sociale, ma se quell'organizzazione non è in grado di garantirti questo ritorno di tipo sociale perché domani magari non c'è soldi per pagare gli operatori, allora è difficile che tu dopo sia imbogliato a mettere i soldi là dentro. Quindi non è una pratica tappa a buchi, non è solo raccolta di sponsor e comunque non è che il fundraising si basa solo sulla raccolta di donazioni da aziende, abbiamo detto già il principio del funding mix, ma è un insieme di tecniche. In genere qui si parla dei mercati, quali sono i mercati del fundraising? I quattro principali dei mercati del fundraising sono quelli privati e sono quindi gli individui, le persone, persone come noi che possono donare. Quanti di voi donano? Immagino che tutti di noi abbiamo donato una volta in vita nostra, c'è sicuramente chi lo fa anche frequentemente, però anche semplicemente la donazione in chiesa è una donazione, non è che non lo sia. Quindi è raccolta fondi da individui e in tutte le sue varianti, perché considerate che nella raccolta fondi da individui noi abbiamo la raccolta di piccole donazioni, che può essere la raccolta di offerte in denaro, come la raccolta di donazioni attraverso versamenti, attraverso conti correnti postali, bonifici bancari, assegni e questi possono essere sollecitati con le varianti più possibili, appunto abbiamo citato prima la lettera a casa, ma l'SMS solidale è una raccolta fondi da individui, il banchetto per strada è una raccolta fondi da individui, il face to face, cioè quello con gli operatori che sono vestiti con la divisa da Save the Children, magari o da Unicef che vi fermano per strada e vi chiedono se volete sottoscrivere una donazione ricorrente attraverso la domiciliazione bancaria, i cosiddetti RID, anche quella è una donazione da individui e lì si può salire all'infinito, perché poi dopo ci sono le donazioni ricorrenti, i grandi donatori, fino ad arrivare ai lasciti testamentari. Oggigiorno per esempio le grandi organizzazioni, ma non solo le grandi, anche le piccole, su quello su cui si muovono maggiormente dove c'è grandissimo mercato è quello dei lasciti testamentari, perché? Perché piano piano, perché? Innanzitutto perché è una forma che può garantire un incasso interessante, tenete conto che le grosse organizzazioni lo mettono a budget preventivo quello che entra dai lasciti testamentari, cioè non è casuale, l'AIRC, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, lo sa a inizio anno, lo mette già a budget preventivo che dai lasciti testamentari gli entrano 8 milioni di Euro l'anno, il Medici Senza Frontiere lo sa a inizio anno che gli entrano 2,8 milioni di Euro l'anno dai lasciti testamentari e sanno che devono mettere in atto tutta una serie di operazioni affinché questo produca questo tipo di entrate, che saranno X incontri, X presentazione, eccetera, eccetera. Poi dopo noi ancora abbiamo magari un po' un concetto un po' più, che è sicuramente legato anche alla nostra cultura rispetto ai lasciti testamentari, che noi abbiamo un po' la scaramanzia anche e quindi quando immaginiamo che si parli di morte sia sempre difficile. Ma in verità il lascito testamentario non è null'altro che una donazione pianificata, cioè tu adesso pianifichi di fare una donazione quando non ci sarai più, semplicemente. E il lascito testamentario non è detto che debba mica essere l'intero patrimonio, può essere anche una donazione da 500 Euro. Io posso mettere il testamento che una volta che non ci sarò più voglio donare 1000 Euro, 500 Euro a un'organizzazione. Questo si può fare assolutamente. Quindi individui, aziende sicuramente, fondazioni. Fondazioni sono soggetti in genere che sono soggetti erogativi che stanno lì solo per erogare risorse a favore di una causa sociale. Per esempio voi con la vostra organizzazione, sapete almeno, non dico che l'avete contattato o che le conoscete, ma sapete almeno tutte le fondazioni che esistono sul territorio? Quello sarebbe una prima cosa da sapere, perché quelli sono lì che stanno lì solo per dare soldi, quindi aspettano solo delle nostre proposte, quindi è un'occasione persa. E poi abbiamo la raccolta fondi dal pubblico. Terza cosa, il fundraising non è una funzione periferica e collaterale rispetto alla direzione di un'organizzazione e questo l'abbiamo detto prima, è un'attività strategica e quindi non è che sta, come diciamo a Roma, non basta prendere un pischello e lo metti in una stanzetta e dice adesso trovami i fondi. No, non funziona così. Un'organizzazione riesce a raccogliere fondi quando tutta l'organizzazione rema a favore del fundraising. Il primo fundraiser in un'organizzazione è il presidente di un'organizzazione. Se il presidente non è colui che ci crede in primis nella raccolta fondi, ma come pensiamo che una persona che non è legata all'organizzazione, che non ci lavora niente dentro, come può donare a favore di quell'organizzazione se non è il presidente il primo a crederci? Guardate che questo vale anche nei casi più sviluppati di fundraising. Per esempio le grosse università americane che sono considerate da un punto di vista di raccolta fondi la massima espressione di raccolta fondi. L'anno scorso c'era il festival del fundraising, c'era un responsabile fundraising di una piccola università americana e diceva sì sì, noi siamo una piccola organizzazione, una piccola università, adesso abbiamo lanciato il nostro programma di fundraising, il nostro obiettivo di raccolta fondi è 100 milioni di euro nel prossimo anno. Quello era il loro piccolo obiettivo di raccolta fondi, quindi capite a che livelli di raccolta fondi stiamo. E lì il primo fundraiser è il rettore dell'università, il rettore che gli viene messo addirittura nelle lettere di incarico nei contratti ormai viene inserito, che il 60% del proprio tempo lo devono dedicare alla raccolta fondi, dopodiché questo non significa che il rettore a scrivere la lettera di richiesta di raccolta fondi o il progetto di fundraising, ma deve mettere in atto delle azioni che favoriscano la raccolta fondi. Costruire relazioni, fare attività di pubbliche relazioni, gestire le relazioni con i grandi donatori? E infine non è semplicemente raccolta fondi, ma è comunicazione, management, relazione con gli stakeholder che sono i portatori di interessi e controllo di qualità. E quindi senza crescita e innovazione organizzativa non c'è fundraising, quindi per fare raccolta fondi innanzitutto bisognerà crescere da un punto di vista organizzativo, il che appunto come detto significa che probabilmente per fare raccolta fondi prima ancora di raccoglierli li dovrà investire delle risorse. E quindi che cos'è la strategia di raccolta fondi? La strategia è quella pratica che mi deve dire dove trovare soldi, su quali mercati, in quale percentuale rispetto al fabbisogno e con quali modalità, tenendo conto delle nostre forze e delle opportunità di mercato. E quindi in genere la strategia di raccolta fondi viene sviluppata a priori, poi dopo si aggiusta in corso d'opera, ma io già prima ancora di mettere in pratica delle attività di raccolta fondi devo più o meno sapere dove andare a parare, altrimenti è semplicemente uno sparare alla cieca. Questo è il funding mix, l'abbiamo già detto, e questi sono i diversi mercati, avete visto, individui abbiamo detto che possono essere donazioni nelle forze più diverse, ma anche quote per servizi, ipotizziamo che se siamo una cooperativa, che facciamo dei servizi, possiamo far pagare dei servizi, se siamo un soggetto che gestisce un museo possiamo far pagare la biglietteria, quello è un servizio che noi offriamo e il servizio possono essere dei tipi più vari. E poi abbiamo le quote associative, cioè se siamo un'associazione la prima fonte di raccolta fondi sono le quote associative, chi di voi lavora in un'associazione o ha un'associazione? Le chiedete le quote associative? Perché tanti non le chiedono nemmeno. Esatto, ma dico, se non siamo in grado di chiedere nemmeno le quote associative, come possiamo chiedere le donazioni? È molto difficile, prima dobbiamo partire da lì, in genere la raccolta fondi si parte da quello che è più vicino a noi per poi andare verso il mondo interno, ma se io non sono in grado di convincere un mio amico che mi conosce, che si fida di me, perché alla base della raccolta fondi, badate bene, c'è una cosa, c'è la fiducia, è l'elemento fondamentale, se non c'è la fiducia è difficile che ti dono, magari ti posso donare una volta, ma non ti donerò spesso, la volta dopo se ti vedo giù in fondo alla strada cambio strada e non ti dono, perché magari ti ho donato semplicemente perché sei un rompiscatole e me l'hai chiesto, ma non perché credo nel progetto, e questo non è che vogliamo ottenere evidentemente questo, però se non sono in grado di convincere una persona che sta accanto a me, una persona che mi conosce, che si fida di me, ma come posso convincere una persona che non mi conosce? Guardate, l'anno scorso è uscito il nuovo censimento Istat sulle organizzazioni non profit, quante sono le organizzazioni non profit in Italia, secondo voi? Provate a dire un numero, 300 mila organizzazioni non profit, 300 mila organizzazioni non profit e ognuna che dice la mia causa sociale è giusta e meritevole di essere sostenuta, eccetera, quindi capite, se io non penso di riuscire a convincere le persone accanto a me, ma come potrò convincere una persona che non conosco? Il fundraising non è nulla di trascendentale, il fundraising è tanto buonsenso applicato a un'attività in questo caso, l'attività di raccolta fondi, io cerco sempre di riportarlo terra a terra, l'attività di raccolta fondi, è come se io devo fare un trasloco, se devo fare un trasloco e devo farmi aiutare da qualcuno, ma a chi lo vado a chiedere? A una persona che conosco o a uno in mezzo alla strada che fermo per caso e gli dico, senta, ma non è che c'è niente da fare, non è che viene oggi pomeriggio a darmi una mano gratis a traslocare? Quello mi guarda e dice, tu sei pazzo, perché dovrai venire nella migliore delle ipotesi, nell'altra mi prenda male parole, mi caccia via magari, quindi questo diciamo che è lo stesso identico concetto. Le aziende abbiamo detto come, attraverso sponsorizzazioni, poi lo vedremo meglio, quindi vedremo meglio le tecniche che sono dalle aziende, poi abbiamo le fondazioni che sono attraverso i bandi, attraverso il finanziamento dei progetti, attraverso veri e propri investimenti sociali, i fondi pubblici che evidentemente continuano a resistere e a vivere, almeno finché ci sono, poi quando finiranno completamente ne faremo a meno evidentemente. E quindi per fare raccolta fondi abbiamo detto, la raccolta fondi si fa su una causa sociale, sulla mission, e quindi che cos'è una causa sociale? Gli elementi essenziali di una buona causa sono la mission, questo si può tradurre tranquillamente in italiano, la missione. Il motivo per cui noi esistiamo, il treguardo, la causa generale di un'organizzazione, il fine ultimo, cioè il motivo per cui tu hai dato vita a quell'organizzazione. In verità la mission sarebbe un obiettivo che se tu raggiungi dovresti chiudere, quindi ipotizziamo che io abbia una mission che è quella di raccogliere i fondi per restaurare il castello Caracciolo, una volta che ho raccolto i fondi, restaurato il castello Caracciolo, sciolgo l'organizzazione, non avrebbe più motivo di esistere. Gli obiettivi strategici, che sono relativi a un piano di azione su larga scala, indispensabili per raggiungere la mission, in genere sono le strategie per raggiungere quella causa sociale, facciamo anche un'ipotesi, ipotizziamo che io abbia un'organizzazione che si occupa di una causa sociale ambientale e allora potrei avere, il mio obiettivo è quello della salvaguardia del pianeta, una causa sociale molto ampia, molto generica. Come lo fai? Con diverse strategie, le diverse strategie magari sono la sensibilizzazione, i progetti di salvaguardia e l'educazione, quindi sono tre linee strategiche per raggiungere quella mission e rispetto a queste linee strategiche devono esistere degli obiettivi operativi, quindi quelle strategie si devono trasformare in dei progetti, in delle attività, quindi diciamo che se io ho per esempio come strategia abbiamo detto la sensibilizzazione, allora dovrò avere X momenti di sensibilizzazione, cosa farò magari una manifestazione in piazza in cui presento la mia causa sociale alle persone, faccio dei corsi di educazione all'interno delle scuole, quindi vado a insegnare ai bambini piccoli che cosa significa la salvaguardia del pianeta, eccetera, 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 cioè a cascata è causa sociale, strategie, obiettivi operativi, cioè che sono i progetti per implementare quelle date strategie. E infine la visione, quindi diciamo che ipoteticamente se io ho una causa sociale, delle strategie e poi dopo all'interno delle mie attività ci sta un obiettivo operativo, un progetto che non ha nulla a che fare con me, dovrei dire quella non la faccio, logicamente, perché non serve strategicamente a raggiungere la mia causa sociale. E infine abbiamo detto la vision, la visione, cioè il modo di vedere la realtà è quello che illumina la mia causa sociale, è il motivo per cui ti sei scelto quella mission, perché? Perché io ho una visione di questo tipo del mondo, cioè credo che senza la salvaguardia del pianeta non ci possa essere un futuro, questa sarebbe una vision molto generica, anche in questo caso legata alla causa sociale precedente. E quindi una buona causa in genere deve rispondere a tre interrogativi, cioè deve dire chi dobbiamo, vogliamo servire o soddisfare, cioè quali sono i nostri beneficiari? I beneficiari possono essere anche ampi, può essere anche una comunità, non è che deve essere tizio o caio, può essere una categoria di soggetti svantaggiati, può essere anche semplicemente gli abitanti di un paese. Cosa? Quindi quali bisogni, quali esigenze, quali domande dobbiamo, vogliamo soddisfare? E come? Cioè con quali modalità tecniche dobbiamo, vogliamo soddisfare questi bisogni. Quindi per esempio, io mi occupo di disabili, perché? Perché credo che debbano poter avere accesso libero a tutte le parti del paese senza che ci siano ostacoli di tipo di barriere architettoniche e questo lo faccio come? Facendo degli interventi strutturali sul paese, facendo degli interventi di cui devo trovare il finanziamento. Questo sarebbe per esempio una causa sociale che risponda al chi, cosa e come. I tre fattori di successo di una buona causa in genere si dicono che siano la fattibilità, ovvero che quella causa sociale sia in qualche modo raggiungibile. Perché? Perché si dice che deve essere realistica. Cioè gli obiettivi devono essere ragionevolmente raggiungibili. Perché? Perché nessuno si va a legare una causa sociale a una causa persa, a una causa che non è raggiungibile. Perché in genere si tende a legarsi a quello che è più facilmente, cioè non più facilmente, a una cosa che sia realmente raggiungibile. Distintiva e dunque che abbia elementi di accentuata distinzione delle altre buone cause e questo pure è molto semplice da capire perché, l'abbiamo detto prima, 300 mila organizzazioni non profit, di cui magari 100 mila, no 100 mila non è un'esagerazione, 10 mila magari si occupano di diritti degli animali. E che cosa mi distingue dalle altre organizzazioni? Se è un mercato così ampio, se è un mercato che si compone di talmente tanti soggetti, deve esserci qualcosa che mi differenzia dall'altra. soprattutto perché nonostante tutto, nonostante quello che si voglia dire, nonostante comunque ci occupiamo tutti di buone cause, tra virgolette, perché poi ognuno si sceglie una buona causa, non esiste una buona causa a priori, ma siccome ognuno si occupa di buone cause, ma siamo talmente tanti e tutti quanti cerchiamo fondi per realizzare le nostre attività, volente o nolente è un ambiente competitivo e c'è competizione e quindi io mi devo distinguere dai miei competitor per qualche cosa, perché se no non si vede il motivo per cui io dovrei dare a te e invece non a qualcun altro. E infine motivante, ovvero che ti spinga ad agire, che ti spinga a fare qualche cosa. Noi nel fundraising diciamo la motivazione che è quella che vogliamo raggiungere e quella di alzarsi e tirare fuori il portafoglio e donare. E attenzione che non è un gesto semplice, perché comunque ti stanno chiedendo di dare dei soldi che in qualche modo tu ti sei guadagnato, quindi non è scontato. Poi dopo siamo tutti sensibili, però non a tutte le cause sociali, anche questo è chiaro, no? Quindi questi sono i tre fattori di successo della buona causa. Ricordatevi perché la prima esercitazione che vi farò fare sarà proprio rispetto a questo, quello di definire la vostra causa sociale. Ora poi dopo lo facciamo come esercizio, ma una cosa che vi invito a fare quando tornate poi dopo nelle vostre associazioni, nei vostri soggetti. Fate fare questo giochetto, provate a dare a tutti un biglietto senza che nessuno copia dall'altro e fategli scrivere la vostra causa sociale. Vediamo se tutti quelli che fanno parte della vostra organizzazione sanno qual è la causa sociale o come la interpretano. In genere vengono fuori delle cose molto interessanti, vi accorgerete. Perché? Perché poi dopo, piano piano, ma questa è una cosa normale, molto spesso in questi casi, soprattutto quando la causa sociale non è formalizzata, cioè non è fissata, subentra la causa sociale personale, cioè la motivazione per cui tu sei entrato all'interno di quell'organizzazione, con la causa sociale dell'organizzazione. Quindi magari tu sei entrato lì dentro in quell'organizzazione perché eri più interessato alla parte formativa, la parte quella di educazione allo sviluppo, ipotizziamo. E allora pensi che la causa sociale dell'organizzazione sia questa. E molto spesso le organizzazioni non lo vanno a formalizzare questa causa sociale. Io lo so perché poi dopo quando ci chiamano come consulenti una delle prime cose che facciamo quella di chiedere la causa sociale. E in alcuni casi ci dice, ah la nostra causa sociale, certo, certo, sta scritta nello statuto. E poi dopo magari sei una cooperativa e vai a vedere le cooperative nello statuto ci hanno scritto la causa sociale che è uguale per tutti. Perché? Perché gli statuti delle cooperative sono fatti con gli stampini ormai, no? Perché soprattutto se vai al commercialista o da un nataio o da un avvocato per farti fare lo statuto della cooperativa, si fa lo statuto più ampio possibile in maniera tale che se domani voglio mettermi a vendere prosciutti all'angolo della strada, lo posso fare. E quindi lo statuto della causa sociale di un'organizzazione non dice nulla. E quindi un indice tipo di un case statement dovrebbe contenere questo. Il case statement è un documento di presentazione, un documento di autopresentazione di un'organizzazione. È quello che dice chi sei. Sarebbe come il tuo biglietto da visita. Che cosa deve contenere? Deve contenere la buona causa, con questi elementi qua che abbiamo visto prima. Il contesto, il quadro di riferimento. Perché hai scelto di occuparti di quella buona causa? Ho scelto di occuparmi di animali. Perché? Perché sul mio territorio ci sono tantissimi animali randaggi. Non lo so, adesso invento, sto inventando proprio dei motivi. Però quello dovrebbe spiegare perché ti sei scelto quella buona causa. Ho deciso di occuparmi di orsi polari in Puglia. Diciamo che è una buona causa un debole, no? Perché non ci sono orsi polari. E allora il contesto, il quadro di riferimento dovrebbe dire, beh, forse devi scegliere un'altra causa sociale, se tu l'avessi fatto prima. Le attività. E dunque, come? Quali attività fai? Quali progetti porti avanti? Lo strutturogramma, l'organigramma? Cioè, come è composta l'organizzazione? Perché? Perché il fundraising sono persone che donano ad altre persone. E dunque io voglio sapere chi sta dietro a quell'organizzazione, chi c'è all'interno di quell'organizzazione, perché sono elementi fiduciari. Cioè, ci voglio vedere la faccia, la gente ci deve mettere la faccia su quell'organizzazione. I destinatari dell'attività? Il fabbisogno tecnico, finanziario, organizzativo, di personale. Cioè, quanto costi come organizzazione? Che budget hai? Quali progetti porti avanti? Perché come nelle aziende su un investimento, uguale sull'organizzazione io voglio sapere dove metto i soldi dentro all'interno di questa organizzazione. Il curriculum, cioè la storia, le iniziative svolte, i successi ottenuti. Ecco, se sono un'organizzazione che esiste magari da 15 anni o da 20 anni e ogni anno porta avanti X progetti. Quelli sono elementi fiduciari, perché fanno vedere sulla carta, fanno vedere effettivamente che tu da X anni porti avanti X attività. E questo è anche un ulteriore elemento che gioca a tuo favore. I sistemi di verifica di qualità. Questo per esempio qua non è che intendo l'ISO 9000 e qualche cosa, tutte queste sigle europee, ma quello che dovremmo riuscire ad arrivare a fare, e lo so che non è una cosa semplice da fare in breve tempo, è quella di fare il bilancio sociale. Ecco, il bilancio sociale non intendo il bilancio economico di un'organizzazione, perché io posso, appunto, abbiamo detto, nelle organizzazioni del terzo settore di tipo di utilità sociale, non è che mi interessa che ci sia una corretta gestione da un punto di vista economico. Cioè tu puoi essere un'organizzazione che a fine anno, ogni anno magari ha 20 mila Euro in cassa. Però io non è che mi interessa quello di un'organizzazione. Di un'organizzazione mi interessa sapere i risultati da un punto di vista sociale. Cioè tu c'è una causa sociale. Quali sono i risultati, gli impatti sociali che sei riuscito a produrre, abbiamo prodotto un cambiamento. Guardate che questo è importantissimo, anche questo è un elemento importantissimo, è uno degli elementi per cui ad esempio oggi sono sempre più in crisi le organizzazioni di cooperazione internazionale. Perché? Perché è normale, adesso è un concetto molto semplice, ma oggi ci chiediamo, ma dopo 40 anni di politiche di cooperazione internazionale, in cui noi abbiamo mandato soldi in Africa per costruire pozzi, per fare questo e questo, la situazione è la stessa identica di 40 anni fa, almeno quella che ci viene rappresentata. E allora perché dovrei continuare a metterci i soldi lì dentro? Anche che io posso essere sensibile alla causa sociale, ma se poi dopo questo non mi ha prodotto un cambiamento, non mi ha prodotto dei risultati, evidentemente indebolisce la mia causa sociale. E voi dovete tener conto che la massa non è che siamo noi persone più sensibili, sono anche tutti quelli che non sono sensibili alla causa sociale e se per me quella causa sociale è importante, devo avvicinare a quella mission, a quella causa sociale anche quelli che non sono sensibili di default. Quindi i sistemi di verifica della qualità e le modalità di reperimento e di utilizzazione delle risorse finanziarie, perché? Perché sono quegli elementi là che ti dicono, ti danno la garanzia della sostenibilità di quell'organizzazione, abbiamo detto prima, io metto i soldi lì dove so che quell'organizzazione continuerà a fare quei progetti, se io metto soldi in un'organizzazione che domani chiude, non li metto là i soldi probabilmente, con tutto che magari mi fido anche di quelle persone lì, ma se hanno un serio problema di cassa, vado a metterli probabilmente dove c'è più probabilità di risultato. E quindi per costruire una strategia di raccolta fondi, il vero problema è che non esiste di nuovo un'unica strategia di raccolta fondi, questo è stato un grosso errore che è stato fatto negli anni 80 ad esempio, che è stato l'anno di grande espansione del cosiddetto marketing sociale, è quando tutte le organizzazioni in Italia hanno cominciato a scrivere le lettere a casa, che effettivamente i primi che si sono lanciati su questo mercato hanno avuto decisamente successo, perché prendiamo ad esempio oggi quello che è un'organizzazione che consideriamo di successo da un punto di vista di raccolta fondi, pensiamo per esempio alla Lega del Filo d'Oro, tutti la conosciamo perché abbiamo visto le pubblicità in televisione o altre modalità di comunicazione, la Lega del Filo d'Oro parte come organizzazione radicata a Osimo, che io sfido voi a conoscere dove sta Osimo, forse lo conoscerà qualcuno di voi, ma non la maggior parte, è un minuscolo laboratorio ambulatorio ad Osimo che si occupava di 10 ragazzi e oggi è la Lega del Filo d'Oro, quindi sicuramente hanno sfruttato un momento di possibilità di espansione, ma quello è stato un momento, oggigiorno se io vi dicessi a voi, prendete e mandate a tamburo lettere, facendo anche un investimento da un milione di Euro, ipotizzando che ce l'aveste, per fare raccolta fondi, vi darei un suggerimento sbagliato, vi manderei a suicidare essenzialmente, perché oggigiorno ormai il mercato è saturo, lo sapete anche voi, quante lettere ricevete a casa di richieste di donazione? Tante magari manco le aprite, o meglio magari le aprite, vedete che vi stanno chiedendo dei soldi senza nemmeno leggere le buttate, ma è normale, lo facciamo tutti quanti, non è che bisogna vergognarsi di questo, siamo sottoposti a talmente tante richieste, tra tv, giornali, eccetera, eccetera, che ormai siamo saturi da questo punto di vista, e poi ci sono tutta una serie caratteristiche che devi avere, se tu magari ormai oggigiorno hai un marchio grosso, magari te lo vai a leggere quella lettera, se ti arriva la lettera di richiesta fondi di un'organizzazione che non hai mai sentito, ma tu doneresti mai un'organizzazione di quel tipo lì? E lo ripeto, noi siamo persone che ci lavoriamo nel settore peraltro, ma io lo dico facendo di nuovo l'esempio su me stesso, quando mi capita magari di andare al supermercato, al centro commerciale e ci stanno quei banchetti o quelle persone che ti chiedono donazioni, di cui non conosci il tipo di organizzazione, ma la prima domanda che mi faccio io è, chi sono sti sola che mi vogliono fregare i soldi, e lo dico io che ci lavoro, quindi ipotizziamo chi non ci lavora che cosa deve dire, che cosa deve pensare. E quindi per costruire la mia strategia di raccolta fondi in genere si parte sempre da un'analisi, da un lavoro di analisi, ovvero di quello che è la tua organizzazione e quello che è l'ambiente esterno, quindi si fa la classica analisi SWOT, però di cui veramente ora non è che vi voglio annoiare più di tanto, sto cercando solo di contestualizzare il tutto per poi farvi lavorare, quindi non vi preoccupate, questo vi porto via proprio pochi minuti. Allora, il successo del fundraising in genere, almeno secondo il nostro modello, quello della Scuola di Roma e fundraising IT, è basato su queste cinque aree, l'area della produzione e della mission, l'area del capitale sociale, il knowledge management, la comunicazione e l'organizzazione, adesso brevissimamente vi dirò che cosa intendo con queste cinque aree. La prima area è quella della produzione e della mission, è la nostra buona causa, ovvero è la ragione per la quale raccogliamo i fondi e la percezione e la rappresentazione della buona causa influiscono evidentemente sui finanziatori. Una buona causa varia nel tempo e soprattutto, allora, partiamo da un primo concetto, ci sono buone cause, io le chiamo proprio solo, veramente solo per l'amore di descrizione, le buone cause facili e le buone cause difficili, no? Se io diciamo che ho una buona causa, mi occupo di bambini, causa sociale, facilissima, e tu esci fuori, fermi qua 100 persone per le strade di San Michele e gli chiedi, credi sia giusto sostenere un progetto che si rivolge ai bambini bisognosi? Beh, probabilmente 99 persone su 100 ti diranno sì. Poi dopo magari non sostengono la tua organizzazione, ma come tipo di buona causa è condivisibile. Altro tipo di buona causa, mi occupo di reinserimento lavorativo degli ex detenuti. Se io esco fuori e vado a fermare 100 persone, magari più della metà mi interrompono e mi dicono, ma qual è il reinserimento lavorativo degli ex detenuti? C'è mio figlio che non lavora, reinserisci lavorativamente lui che non ha mai fatto nessun reato, peraltro. Quindi capite che la causa sociale, evidentemente ci sono cause sociali più spendibili e cause sociali meno spendibili, il che non significa che sono cause sociali giuste o sbagliate, perché causa sociale giusta non esiste, tu ti scegli la tua causa sociale, cioè se per te è importante lavorare rispetto al reinserimento lavorativo degli ex detenuti, pace non esiste, giusto o sbagliato. E la causa sociale, quindi esistono cause sociali che sono più facilmente vendibili, vendibili in senso positivo, non in senso che ora sto dicendo che lì dobbiamo andare fuori a vendere i nostri beneficiari. Quindi ci sono cause sociali più vendibili, ma anche la percezione e la rappresentazione delle buone cause cambia. anche qui facciamo un esempio, oggigiorno se noi parliamo di ricerca medica o ricerca rispetto a una malattia che può essere quella dell'AIDS, oggigiorno siamo più o meno, è pacifico quello di dire, beh no, è una malattia su cui vale la pena fare ricerca, ma quando è uscito fuori l'AIDS come malattia, inizialmente era la malattia dei gay e la malattia degli omosessuali e delle persone di colore e dei drogati. E allora prima ancora di poter fare raccolta fondi ho dovuto fare cultura rispetto a quella causa sociale, farla percepire come un reale bisogno e una reale causa sociale. E questa varia nel tempo. Quindi per esempio è normale che anche in un periodo di crisi si percepiscono cause sociali più prossime. in un periodo in cui non c'è crisi, magari appunto no, non si pensava così tanto a casa nostra. Oggigiorno è più frequente quello di pensare anche a casa nostra e quindi si pensa che non si può fare cooperazione se non si fa cooperazione anche da noi, perché i problemi nostri ce li abbiamo anche qua. Infatti lo vedete, le grosse organizzazioni lo fanno anche da un punto di vista tattico. Save the Children apre l'ambulatorio in Calabria, Medici senza frontiere apre il centro d'accoglienza a Lampedusa, perché dice non posso andare a fare cooperazione, pensare di fare cooperazione solo se lo faccio dall'altra parte del mondo e invece ho i problemi anche qua in casa mia. Quindi abbiamo detto la percezione, ci sono tematiche sui quali alcuni interlocutori sono più propensi di altri finanziari e le iniziative e le attività delle organizzazioni sono come un prodotto in un certo senso che io devo mettere sul mercato o meglio sui diversi mercati e quindi devono rispondere alle esigenze dei beneficiari e dei finanziatori, ovvero devono essere di qualità, utili, accessibili e percepibili anche. Poi abbiamo l'area della comunicazione, qui non intendo tanto solo il messaggio o i messaggi, ma è il sistema di comunicazione di un'organizzazione, dunque tutto l'insieme del sistema di comunicazione, comunicazione interna, comunicazione esterna eccetera. Comunicare evidentemente per raccogliere fondi innanzitutto lo devo comunicare, guardate ora vi racconto una sciocchezza, però per esempio un mio amico ne parlavo, si parlava di donazione e lui sosteneva l'UNHCR e io gli ho detto, questo mio amico si chiama Edoardo, gli ho detto ma perché sostiene l'UNHCR, è un'organizzazione che peraltro i soldi ce l'ha, che non li utilizza nemmeno benissimo a mio modo di vedere perché non c'è un buon rapporto costi e progetti finanziati eccetera eccetera. E lui ha detto, sai perché io dono l'UNHCR? Perché sono gli unici che me l'hanno chiesto e quindi la prima regola base del fundraising è che se tu puoi raccogliere fondi li devi chiedere quei soldi, non puoi aspettare che dalla provvidenza ti arrivano i soldi qua, la provvidenza la dobbiamo lasciare ai preti e per carità ci hanno fatto cose eccezionali con la provvidenza, però magari fanno partire 100 progetti e magari ne riescono a fare 10 e poi invece quindi per il prete la spiegazione è che il nostro signore ha voluto che quei 10 venissero fatti e quegli altri 90 no. Diciamo che noi invece non possiamo giocarci questo lusso della provvidenza, noi dobbiamo decidere molto accuratamente quello che vogliamo fare, quindi se siamo convinti che quei 10 progetti siano importanti, dobbiamo far sì che quei 10 progetti siano finanziabili e sostenibili e quindi dobbiamo comunicare, ma comunicare significa quindi non solo avere dei messaggi e contenuti, ma anche conoscere i propri target e dunque qual è il mio target a cui mi rivolgo, quali sono i miei interlocutori, con chi è che parlo quotidianamente e guardate anche qui, molto spesso io lo chiedo, anche a organizzazioni che hanno i loro donatori, non magari enormi quantitativi dei donatori, ma hanno magari 1000 donatori o 2000 donatori, gli chiedo chi sono i tuoi donatori e loro non lo sanno, chiedi sono uomini, sono donne, sono adulti, sono anziani, sono giovani, sono dei qua del territorio, non lo sanno e invece è un elemento fondamentale, soprattutto se pensiamo alla raccolta fondi dell'azienda, dopo lo vedremo, quindi devo conoscere target, devo avere i mezzi e i canali di comunicazione, anche qui che cosa significa molto semplicemente, per esempio c'hai una newsletter, c'hai un opuscolo che viaggia in giro per le persone, c'hai dei volantini da far viaggiare e saper raccogliere feedback, cioè la comunicazione oggigiorno non è solo informazione, una volta la comunicazione si pensava che fosse semplicemente informazione, cioè emetto un messaggio, dico la mia verso il mondo, quella era comunicazione una volta, oggigiorno la comunicazione ha due vie, cioè io mando un messaggio ma devo essere pronto a raccogliere quello che mi dica, mi dice il mio popolo, perché se no magari, anzi soprattutto è fondamentale perché ti aiuta ad aggiustare il tiro, ti accorgi che invece il messaggio che hai utilizzato è completamente sbagliato. Il capitale sociale, con capitale sociale non intendiamo il capitale economico, ma intendo il capitale relazionale, cioè sono le relazioni, il patrimonio di conoscenze, i rapporti sociali, umani e di lavoro che sono all'interno di un'organizzazione, cioè sono le relazioni che la tua organizzazione ha e oggi vale molto più di quello economico, perché? Perché quello economico ho detto onestamente lo posso ottenere, se c'è qualcuno che mi fa un prestito, un finanziamento ho ottenuto il mio capitale economico, capitale sociale non te lo può apprezzare nessuno, te lo devi costruire nel tempo, però attenzione che si costruisce anche il capitale sociale, si costruisce con attività di partneriato con altre organizzazioni, con l'inserimento in reti di organizzazioni, con l'appartenenza dei membri di altre reti sociali, cioè se io, se io Andrea sono per esempio un membro di un circolo o di una rete professionale, ipotizziamo che io fossi un avvocato e sto all'interno dell'ordine dei medici, quella è una rete sociale, è una rete sociale professionale, quella della rete degli avvocati e siccome abbiamo detto che la donazione si basa sulla fiducia, la rete è legata da alcuni nodi, infatti in latino si dicono fides, quindi quel nodo là, se tu ti riesci a legare a uno di quei nodi di quella rete sociale, puoi portare quella fiducia che già esiste all'interno di quella rete sociale all'interno della tua organizzazione. E dunque l'appartenenza dei membri ad altre reti sociali, la partecipazione dell'organizzazione ad iniziative di altre e le pubbliche relazioni, cioè se non mi conosce nessuno mi devo far conoscere, detto proprio brutalmente, altrimenti difficilmente posso fare la richiesta. E di nuovo riprendiamo il concetto di prima, è difficile fare una richiesta di successo verso una persona che non ti conosce. Poi abbiamo l'area del knowledge management, che è la gestione delle informazioni, quindi detto una prima informazione sarebbe il database, sarebbe il modo di gestire quelle informazioni, no, io non c'ho un database, c'ho un'agenda di carta dove c'ho scritto tutti i nomi e cognomi, magari non si capisce manco bene il numero di telefono. Beh, allora capite che anche questo, ora lo sto semplificando il più possibile, è una banalità, però anche quello è un elemento fondamentale per la gestione delle informazioni. Sulle grandi organizzazioni, per esempio, il knowledge management, ci costruiscono le campagne, oggigiorno se tu mandi una newsletter, ci sono sistemi di invio e di gestione delle newsletter elettroniche, guardate che non sono nemmeno talmente care, oggigiorno ci sono sistemi di gestione della newsletter che costano un migliaio di Euro, una cosa del genere, quindi non stiamo parlando, 5 anni fa, 10 anni fa costavano 10.000, 15.000 Euro, ormai oggigiorno costano anche dei prezzi molto ragionevoli, per cui per esempio anche più organizzazioni magari si potrebbero mettere insieme e acquistare un prodotto di questo tipo qui. E questi sistemi di invio della newsletter ti permettono di sapere rispetto al pubblico a cui tu l'hai mandato, e se arriva una newsletter di questo tipo, un'email, un messaggio elettronico a me di questo tipo con questa newsletter, l'associazione riesce, ad esempio una newsletter è costruita in sezioni e tu hai magari un'area che è più cultura, un'area che è più aiuto, un'area che è più, non lo so, intrattenimento, e allora riescono a registrare attraverso i sistemi di database se io ho letto l'area intrattenimento o l'area cultura, e quindi un domani se mi devono fare una richiesta di raccolta fondi, se io ho letto l'area cultura, probabilmente mi arriva una richiesta di raccolta fondi sulla cultura, capite che questo evidentemente aiuta nel codo, perché mi permette di avere dei messaggi più efficaci e più diretti sulla singola persona, ma anche molto semplicemente la condivisione di questa informazione all'interno dell'organizzazione, per esempio ci sono organizzazioni dove magari appunto mi è capitato, stavo seguendo un'organizzazione rispetto a una consulenza, poi a un certo punto entrano dentro la stanza del fundraising i progettisti della progettazione e dicono va bene, ciao noi ce ne andiamo, stiamo andando a incontrare Unicredit per un progetto, e lì l'ufficio fundraising non sapeva che l'ufficio progettazione ci aveva in piedi un progetto con Unicredit, che è un'azienda, che è comunque un soggetto interessante da un punto di vista di fundraising, ora di nuovo ho cercato di riportarlo a un esempio più semplice possibile, ma è impossibile che queste informazioni non passino internamente, devono invece poter circolare. E infine l'organizzazione, e l'organizzazione appunto è tale perché è in grado di gestire che cosa? Risorse economiche, professionali e tecniche, i suoi prodotti, un progetto di sviluppo, l'assetto giuridico istituzionale e la cultura organizzativa dei dirigenti e dei volontari sono un fattore di successo del fundraising, anche qui di nuovo molto banalmente, sei un'organizzazione, hai 100 volontari? Beh con 100 volontari posso fare una serie di azioni, se io non ho nessun tipo di volontario, siamo un'organizzazione, siamo in tre, è inutile che io mi vada a costruire una strategia di raccolta fondi, diciamo, di fare i banchetti a ogni angolo della strada, perché tanto non ce l'ho, ora detto veramente nella maniera più semplice e banale possibile. E quindi, alcune regole generali rispetto ai soggetti con cui sono in contatto. Una prima regola è quella di individuare il mio target, cioè il mio pubblico di riferimento e cercare di segmentare più possibili pubblici. E in genere devo valutare il potenziale di fundraising di questi determinati pubblici. E questo potenziale di fundraising in genere si valuta con un, seguendo un acronimo inglese che si chiama LII, LII sta per Link, Linkageability e Interest. Quindi Linkage è il legame. Detto di nuovo banalmente, ti conosco o posso arrivare a te? Io magari identifico un target di fundraising che è magari l'amministratore delegato dell'azienda che sta qua in provincia. E allora dici, Linkage, sei in contatto con lui, detto banalmente, posso alzare il telefono e parlarci? E quindi il legame può essere di tipo familiare, sociale, professionale, perché hanno beneficiato dei servizi, insomma, o perché, che ne so, ecco di nuovo, fossi un'associazione culturale che gestisce un teatro, se io so che ai miei spettacoli quell'amministratore delegato è venuto sempre, beh, innanzitutto, e se sono in grado di capire questa cosa analizzando queste informazioni qua, so che quel soggetto lì è interessato alle mie attività, quindi gli posso successivamente fare una proposta, un progetto, proporre? Quindi valuto il legame, valuto l'interesse, che appunto è il grado di coinvolgimento, di consenso verso la causa sociale, l'interesse può essere verso la causa sociale, ma anche verso l'organizzazione, e infine appunto l'ability, cioè la disponibilità finanziaria, cioè vado a valutare, ce l'hai soldi da donare? Non c'hai soldi da donare? Cosa mi può donare? Mi può donare altre relazioni, mi può donare tempo, mi può donare bene i servizi? Quindi si valuta sempre il target usando il metodo LAI e a questo punto entriamo nel panorama dunque delle aziende. Come... no perché mi aveva detto finiva alle 10 e mezza, quindi mi libero di questa cosa? Vabbè, me lo direte. Allora, io qui vi ho cercato un po' di tirare fuori un po' di numeri rispetto al... alla raccolta fondi, rispetto alla cultura e dunque soprattutto il rapporto cultura e aziende. Allora, questa è una ricerca interessante che ha fatto un'associazione che si chiama Civita, che è andata ad analizzare proprio il fundraising, le donazioni delle imprese sulla cultura. E vedete, i numeri sono interessanti, cioè il 56% dei finanziamenti viene dalle grandi imprese, mentre il 44% delle imprese più piccole, il 20% delle aziende grandi investe oltre 500 mila Euro l'anno in cultura. E ecco, forse lo svantaggio in questo caso è che solo l'8,9% investe al Sud in cultura, però significa anche che forse c'è mercato da questo punto di vista. E anche se prevalentemente gli investimenti in cultura si orientano su musei, mostre in genere, eventi e spettacoli, mentre l'investimento in interventi strutturali e di restauro è stimabile al 10-15%. però guardate che anche le grosse organizzazioni, i grossi soggetti museali cominciano a fare fundraising, anche qui di nuovo è un mercato, la cultura per esempio che tradizionalmente non ha mai fatto fundraising, ma perché non l'ha mai fatto? Perché fino ad oggi campava di fondi pubblici e quindi non c'era il problema di doversi aprire al mondo privato da un punto di vista di fundraising e anzi ancora oggi c'è molto dibattuto, cioè quando si parla di fundraising per la cultura, tante persone dicono no, non bisogna fare fundraising per la cultura, soprattutto se parliamo delle aziende, le aziende non devono entrare lì, deve essere libera la cultura. Capite, se io voglio raccogliere fondi dalle aziende, se parto con questo approccio difficilmente quelli me li daranno, perché noi scontiamo un ulteriore elemento culturale che è quello un pochino tipicamente italiano, che è quello che tiene separati la sfera dei fini dalla sfera dei mezzi, cioè c'è la sfera dei fini che sono la causa sociale, la mission, sono quella parte bella e poi c'è la sfera dei mezzi che è la parte dei soldi e quella ci fa pure un po' schifo, noi vogliamo solo la sfera dei fini, però attenzione, come ha detto un importante fundraiser, è vero che no mission no money, cioè senza causa sociale non si raccolgono fondi, ma anche è vero il contrario, cioè si può anche tranquillamente capovolgere la cosa, no money no mission, cioè senza soldi quella causa sociale difficilmente la riuscirai a implementare, a far decollare e quindi di nuovo per noi è importante quella causa sociale e allora dobbiamo fare di tutto affinché questa causa sociale rienti raggiungibile. E come vi dicevo prima, ci sono cause sociali che non sono necessariamente locali, soprattutto se parliamo di cultura e se parliamo per esempio di opere, di beni culturali in generale, di cui l'Italia è veramente forse il maggiore esponente, allora dove sta scritto che i soldi li possiamo raccogliere solo qua? I soldi si possono raccogliere anche dall'altra parte del mondo, di nuovo ora non sto dicendo che le nostre piccole associazioni lo devono fare, ma da un punto di vista concettuale assolutamente così, ci sono tante persone che magari nel frattempo, che negli anni sono emigrate dai nostri paesi, dai nostri cosi e che nel frattempo hanno fatto successo dall'altra parte del mondo e dove sta scritto che non possono essere soggetti o magari che addirittura che non vogliono essere dei soggetti che restituiscono alla loro terra. Pensate che lo raccontava appunto proprio la presentazione di quel rapporto, la prima sulla cultura è fatta da Civita, lo raccontava il fundraiser degli uffizi di Firenze, no? E lui appunto loro avevano fatto lo stesso ragionamento, cioè avevano detto, vabbè ma noi siamo gli uffizi, cioè noi siamo un soggetto mondiale, dove sta scritto che noi i soldi li dobbiamo raccogliere solo a Firenze? Noi i soldi li possiamo raccogliere dappertutto, in tutte le parti del mondo. E quindi hanno cercato di capire, hanno detto dove andiamo a fare la raccolta fondi? Hanno pensato che andiamo a fare una raccolta fondi comunque in un paese dove culturalmente già sono abituati a donare per la cultura, perché anche questo è vero, abbiamo visto prima la causa sociali, la percezione delle cause sociali, oggigiorno ancora c'è la percezione della causa sociali che da noi la cultura per la maggior parte del tempo è stata pubblica, finanziata con i soldi pubblici e quindi adesso io devo tornare dalle stesse persone che per anni hanno finanziato la cultura con i soldi pubblici, come? Pagando le tasse, dunque non era nemmeno una tua scelta volontaria, non è che tu dici, no vabbè a me la cultura non mi interessa, quindi le tasse non le pago, no perché se poi dopo te beccano è pure un reato, quindi le tasse le devi pagare a priori, quindi è differente la tassazione dalla donazione, la donazione è una liberalità, è una cosa che tu fai volontariamente a favore di una causa sociale, le tasse tu non è che decidi dove vanno le tasse tu le dai e poi dopo c'è qualcuno che governa che dovrebbe essere illuminato e sapere dove andare a mettere questi soldi, purtroppo non è sempre così, però dobbiamo prenderne atto, insomma fatta breve, gli uffizi hanno deciso di aprire un ufficio di fundraising in un posto dove fossero già abituati a donare per la cultura e quindi dove l'hanno deciso di aprire? Negli Stati Uniti d'America dove comunque fundraising lo ciucciano fin da bambini col biberon e quindi che cosa sono andati? Hanno detto dove andiamo? Andiamo c'è in un posto dove peraltro c'è gente che ha i soldi, magari ci stanno anche tanti italo-americani dunque che sono persone che hanno un legame con la nostra terra e quindi per farla breve hanno deciso di aprire un ufficio, anzi un'associazione che si chiama Friends of the Uffizi Gallery a Miami e dice siamo arrivati là a Miami, abbiamo aperto la nostra Friends of the Uffizi Gallery Association, dice quando siamo arrivati là ci siamo accorti che già da due anni era presente a Miami la Friends of the Vatican Museum che erano arrivati due anni prima e che già si erano aperti la loro associazione di raccolta fondi, però almeno hanno detto beh almeno abbiamo capito che non abbiamo sbagliato perché qualcuno già ci aveva pensato prima di noi, però capite che da questo punto di vista anche lì di nuovo ci sono fondazioni di erogazione mondiale che stanno lì solo sul mercato e cercano delle buone cause a cui legarsi. Allora, questa è un po' un'indagine interessante che è stata fatta sempre là da Civita rispetto al motivo per cui si investe in cultura, appunto le aziende dicono che investono in cultura perché produce un miglioramento dell'immagine, cioè visibilità sul marco e quindi capite che se noi siamo in grado di dare sostenibilità, sostegno da un punto di vista di comunicazione, abbiamo delle carte in più. Perché? Perché aiuta nella creazione di contatti diretti e di relazioni e nella variazione della reputazione. La scelta del progetto culturale è legata generalmente alla tipologia, alla connotazione d'immagine dell'evento, questo può essere visto sia in senso di grandezza dell'evento, ma anche in senso di radicamento. Sempre di più le aziende cercano ad esempio legami con cause sociali radicate, cioè non cercano più solo il grande marchio, una volta si cercava solo il grande marchio, invece ormai si cerca anche spesso organizzazioni che abbiano un forte radicamento territoriale. E quindi se l'azienda valuta l'efficacia dell'investimento culturale in genere si affida alla visibilità ottenuta sui media e alla creazione di contatti diretti. E le aziende chiedono che cosa? Chiedono in genere una collaborazione continuativa nel tempo, anche questo vi garantisco non è scontato, una delle prime cose che faccio quando entro come consulente all'interno delle organizzazioni vado a vedere, fammi vedere un po' negli anni per esempio rispetto alle aziende chi ti ha donato. E vedi anche delle cose interessanti che sono state fatte negli anni. E poi dopo magari chiedo, ma perché questo qua ci ha donato quest'anno e l'anno dopo non ha donato? E la risposta è in molti casi, non è che ha dicendo quello o non ha voluto donare l'anno successivo, molto spesso la risposta che mi viene data è, vabbè ma non potevamo mica chiederglielo l'anno dopo di nuovo, glielo abbiamo già chiesto l'anno prima, che facciamo? Glielo richiediamo? Siamo sempre a chiedere a loro come se fosse, di nuovo, il concetto è quello della mungitura, no? Allora non posso stare sempre a mungere lo stesso soggetto. E invece noi dobbiamo cambiare il paradigma qui, cioè noi dobbiamo passare dall'idea che noi stiamo chiedendo una cosa all'idea che noi stiamo offrendo qualche cosa. E allora se noi stiamo offrendo qualche cosa e riesco a identificare quel vantaggio, dopo cercheremo di identificarli quali vantaggi possiamo dare all'azienda, se ti sto offrendo qualche cosa allora devo anche offrirti di riottenere quella cosa. L'accuratezza della gestione dell'evento sa il 46%, i ritorni di benefici trasparenti e adeguati il 20% e la personalizzazione in funzione delle proprie esigenze il 16%. Perché? Perché sempre di più le aziende, soprattutto quando si vogliono legare a un'organizzazione o un progetto o un'attività, non vogliono più essere semplicemente un erogatore, ma vogliono essere un partner. E come partner vogliono avere anche da dire. E di nuovo, attenzione, qui non è che è così scontato questo concetto, perché molto spesso di nuovo, io lo chiedo, un altro giochetto che faccio quando entra all'interno dell'organizzazione, chiedo, ma perché quell'azienda ci dovrebbe donare, perché ci dovrebbe sostenere? E molto spesso la risposta che mi viene data è, ah perché loro hanno i soldi, come se fosse una colpa insomma. E voglio dire, anche qui, mettiamoci d'accordo, se l'azienda non fa i soldi, se l'azienda non fa profitto, domani chiude, manda a casa la gente, crea un altro problema sociale, non è che ci aiuta questa cosa qui, se l'azienda non fa risorse, non produce risorse. E le imprese che non investono in cultura, più di due terzi sono aziende piccole, principalmente nel settore commerciale, in quello manufatturiero, nella costruzione. E io dico sempre, se questi non donano, non è perché sono insensibili, significa che probabilmente non siamo noi in grado di offrire qualche cosa che per loro abbia senso. Perché l'insensibilità e la crisi sono delle belle scuse. Oggigiorno quando tu vai a parlare con le organizzazioni, ti dicono, ma secondo te è migliore il tuo, è il tuo fundraising attenuto o è peggiorato? E la maggior parte ti dice, ah credo che peggiorerà o credo che sia peggiorato, magari non avendo nemmeno fatto una buona analisi se effettivamente è peggiorato o no. Dici, perché è peggiorato? E di nuovo, autoreferenzialità al massimo, non fare mea colpa, dire ho sbagliato io qualche cosa, ah c'è la crisi. La crisi è una bella giustificazione per tutti i problemi e soprattutto una bella giustificazione per non proporre soluzioni adeguate al nostro problema. C'è la crisi, che si può fare? Eh no, perché non è così. Attenzione che le ricerche che sono state fatte, sono state fatte sui donatori e sono state fatte delle ricerche molto interessanti in cui i donatori, innanzitutto le ricerche dimostrano che i donatori individuali per esempio hanno tenuto, non sono assolutamente diminuiti i livelli di donazione. E quando gli è stato chiesto cosa sei disposto, cioè ora che c'è la crisi cosa farai? Taglierai le tue donazioni? Ha detto assolutamente no, quella è una liberalità, è una mia scelta, un mio impegno che io ho deciso di fare. Prima di andare a tagliare le donazioni vado a tagliare altre cose, vado a tagliare magari che vado una volta in meno a cena fuori al mese, oppure che non taglio il riscaldamento, accenderò un'ora in meno il riscaldamento o altre spese, che avremmo tutti considerato molto più essenziali. Invece i donatori ci hanno detto il contrario. Però i donatori criticano determinate cose, le ricerche l'hanno dimostrato, cosa criticano? Eccessiva frammentazione, incapacità di fare rete delle organizzazioni, troppi doppioni, cioè 100 organizzazioni nello stesso paese che fanno la stessa cosa, e perché io dovrei allora donare a tutti questi quando questi non si sanno mettere insieme e fare qualche cosa di questo tipo? Scarso impatto, che è dovuto di nuovo alla frammentazione, cioè immaginiamoci 100 organizzazioni che lavorassero in rete a sistema, che impatto maggiore avrebbero rispetto a un'organizzazione che fa magari le sue attività per 10.000 euro l'anno. Per carità è giustissimo, nel senso che non sto dicendo che è sbagliato che quelle organizzazioni esistano, però forse fare il sistema in molti casi sarebbe utile. Oltre il 42% delle imprese ritiene che questo investimento non serva a sostenere la visibilità del marchio e del prodotto, cioè l'azienda dice io devo vendere, se faccio sta cosa non è che vendo di più, o almeno, soprattutto solo se noi offriamo da questo punto di vista, il 21,5% ritiene che non favorisca la variazione delle vendite, non ci sono risorse da investire in cultura, la mancanza di vintaggi fiscali pesa, attenzione che adesso invece per esempio Franceschini ha fatto la nuova norma sulla donazione a favore di beni pubblici, beni culturali pubblici, è quello un grossissimo competitor, c'è una defiscalizzazione fino al 60% dell'investimento, vuol dire che sui termini di defiscalizzazione c'è un grossissimo competitor e il 61% delle imprese non trova nessuna ragione che potrebbe fargli cambiare opinione. I suggerimenti per una fruttuosa collaborazione pubblico-privato in materia di investimenti culturali occorre passare dalla logica del fundraising al project financing, cioè riconoscendo nell'impresa una risorsa vitale di energie, non solo economiche, le aziende vanno coinvolte condividendo obiettivi e risultati e capite che se io sostengo che quello là è un farabutto che fa i soldi, che ha i soldi forse manco lecitamente e che anzi non deve avere nulla da dire all'interno della mia idea culturale, beh è difficile trovare un partner con queste premesse, capite no? E quindi sarebbe meglio dire della logica del Bancomat a quella delle partnership e il partner come partner come tale lo devi considerare, cioè se io lo metto là invece gli dico tutto il tempo sei un cretino, sei un cretino, sei un cretino, quello probabilmente alla terza volta non mi ascolta più. E quindi in generale il corporate fundraising, le aziende della Bancomat vogliono sempre di più diventare un partner e quindi essere coinvolti anche nella progettazione. Il metodo di decisione, cioè il decision making è complesso, ma comunque in genere è più rapido di quello pubblico sulle aziende, cioè siamo più in grado, più in fretta di capire se otterremo o no, non dobbiamo aspettare bandi, tempi, eccetera, eccetera. E che ci aiuta, eh? I requisiti essenziali per stare quindi su questo mercato quali sono? Sono la capacità di analisi dei soggetti, la capacità progettuale di impatto sulla realtà, la propensione alla comunicazione sociale e pubblica e il lavoro in partnership con le aziende. Grazie.